Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Potrebbe risalire alle prime ore di giovedì il decesso di Maria Teresa Maurella, l'ottantenne di San Benedetto del Tronto, trovata morta in un lago di sangue nella sua abitazione di edilizia popolare in Via della Pace. Per l'omicidio è in stato di arresto ricoverata in psichiatria la figlia, Daniela Multari, di 48 anni. Ieri all'ospedale Madonna del Soccorso è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'ottantenne, a cui hanno preso parte i medici di medicina legale dell'area Vasta 5, mentre non ha nominato alcun perito la difesa della donna accusata di omicidio volontario dopo l'arresto, disposto dalla procura di Ascoli Piceno ed eseguito dagli agenti del locale commissariato di polizia. Ci vorrà ancora del tempo per completare l'accertamento con le analisi sui campioni prelevati durante l'esame autoptico, volta ad accertare l'esatta causa del decesso e gli oggetti utilizzati per inferire sull'anziana, nonché la tempistica dei colpi che le sono stati inferti dalla figlia. Rea confessa è ancora in stato di shock, a sua volta ferita non gravemente. A dare l'allarme è stata la stessa 48enne, con due telefonate molto confuse, partiti al numero delle emergenze 112 e 118. L'aggressione dai primi elementi raccolti è stata molto violenta, con colpi sferrati certamente con rabbia, con un oggetto o un'arma ancora non identificati. Oggi la procura rinnoverà la richiesta di custodia cautelare sulla quale dovrà pronunciarsi la settimana prossima il GIP di Ascoli Piceno.